Una nuova protesta ma anche il momento di tirare le somme. L'ultimo sitin, il sesto consecutivo per denunciare i problemi mai risolti all'ospedale di Castrovillari, organizzato al consigliere regionale Ferdinando Laghi, è stato quello che ha chiuso un percorso e ciò che ne è venuto fuori è la preoccupante condizione del nosocometo della città del Pollino. Infarti che vengono accettati soltanto per sei ore al giorno, la chirurgia che non opera neanche gli urgenti da oltre un mese, per mancanza di anestesisti che sono all'omicino e rischiano di trascinare tutto l'ospedale in una sofferenza mai accaduta. La broncoprenologia ha tagliato gli ambulatori, l'ortopedia è ancora chiusa. In questo ospedale non c'è un reparto che non sia in sofferenza. L'ASP di Cosenza deve intervenire immediatamente, vestire delle assunzioni. Le assunzioni si fanno attraverso i concorsi, i concorsi si bandiscono e debbono essere velocizzati, debbono essere seri, costruttivi, a tempo indeterminato. I sit-in per il momento si fermano qui, ma è stato redatto un documento da consegnare al direttore generale dell'ASP di Cosenza, Antonio Graziano, per chiedere interventi adeguati e consentire ai cittadini della zona dell'esero Pollino di avere una sanità degna di tale nome.